Ben trovati a questa nuova edizione del nostro telegiornale in primo piano subito la cronaca finti assicuratori tentano di raggirare un anziano in via Pola a Sulmona un colpo non riuscito per i malviventi i casi di tentato raggiro agli anziani aumentano a dismisura in città sentiamo tutto nel servizio di Andrea D'Aureli postare l'attenzione sulla figura femminile promuovere la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e la riflessione sulle tematiche di genere mostrare l'eccellenza dell'essere donna e dimostrare come la donna non è protagonista solo l'ottomerso mostrare l'eccellenza si fingono assicuratori per raggirare un anziano ma tornano a casa a mani vuote è accaduto ieri in via Pola a Sulmona quando due uomini avevano architettato un piano ben preciso per sfilare mille euro in contanti a un anziano del luogo la tattica è stata la solita utilizzata negli ultimi tempi i due malviventi avevano contattato la vittima telefonicamente chiedendo di consegnare una somma in denaro poiché un parente sarebbe rimasto coinvolto in un incidente stradale e la sua autovettura non sarebbe assicurata i due si sono presentati nell'abitazione dell'anziano per ritirare il malloppo ma la collaboratrice domestica fortunatamente era in casa e accortasi di due strane figure è riuscita a bloccare i finti assicuratori sulla porta d'ingresso e a lanciare l'allarme il tempo di contattare la polizia che i due sono fuggiti via sull'ennesimo tentativo di raggiro e danni di anziani indaga la squadra anticrimine del commissariato di via Sallustio gli agenti stanno cercando di risalire ai responsabili ascoltando il vicinato nella zona non sono installate telecamere di videosorveglianza in una sola giornata si sono registrati ben quattro casi di tentativi di raggiro e truffa i poliziotti raccomandano attenzione e prudenza ricordando che né le forze dell'ordine né gli assicuratori vengono a ritirare il denaro a domicilio è stata fissata per mercoledì 11 maggio alle 9 dinanzi alla quarta sezione penale della Corte di Cassazione l'udienza per il terzo e decisivo grado di giudizio del processo per il crollo della casa dello studente dell'Aquila nella notte del 6 aprile 2009 a seguito del terremoto delle 3.32 rimasero uccisi otto giovani nell'edificio pubblico di proprietà della regione Abruzzo e gestito dall'azienda per il diritto agli studi universitari del capoluogo a renderlo noto l'avvocato terramano Vania della Vigna che assiste i familiari di uno studente di nazionalità israeliana e di molti ragazzi sopravvissuti per un totale di 22 parti civili per tre mesi i cibi aproteici non sono stati erogati ai pazienti nefropatici lo ha denunciato il Tribunale per i diritti del malato ieri sera nella rubrica sociale un occhio per tutti l'erogazione dovrebbe riprendere a giorni sentiamo per ben tre mesi i cibi aproteici non sono stati erogati ai pazienti nefropatici lo ha fatto sapere ieri sera nella rubrica sociale un occhio per tutti la vice coordinatrice del Tribunale per i diritti del malato Franca del Monaco dopo anni di dura battaglia il TDM era riuscito a ottenere una stanza all'interno del presidio ospedaliero dove venivano distribuiti gli alimenti a detta dei pazienti riferisce del Monaco i cibi aproteici non sono stati più somministrati per circa tre mesi a quel punto sono scattate le verifiche e sopralluoghi sul posto abbiamo scoperto che nella stanza stavano eseguendo dei lavori e ci siamo subito rivolti al distretto sanitario per capire come risolvere il problema spiega la vice coordinatrice del TDM è stata la dottoressa Arquilla a dare l'assicurazione in merito annunciando che l'erogazione dei cibi aproteici riprenderà nel fine settimana a giunce del Monaco per ricevere gli alimenti basta presentarsi alla stanza numero 2 del distretto sanitario con il certificato del nefrologo tutti coloro che hanno bisogno dell'erogazione di cibi aproteici dovranno recarsi con il certificato del nefrologo che naturalmente attesterà che il paziente ha necessità di nutrirsi con questi cibi dovrà recarsi con questo documento nella stanza numero 2 del distretto sanitario dove si metterà in contatto con la signora che è deputata all'erogazione dei cibi aproteici e poi da qui avrà informazioni per le modalità che dovrà rispettare per poter avere questo materiale e la rubrica un occhio per tutti sarà trasmessa in replica al termine di questa edizione del nostro telegiornale puntata questa volta dedicata al tribunale per i diritti del malato e adesso la politica abruzzo civico plaude all'iniziativa di giungere alla riunificazione delle due anime del partito democratico di sulmona l'onorevole giulio sottanelli presidente di abruzzo civico afferma apprendo con soddisfazione della nomina di amedeo fusco persona capace e competente con cui ho condiviso in passato parte del mio percorso politico come sub commissario del pd di sulmona al fianco del segretario regionale marco rapino di quello provinciale mario mazzetti sono certo che si tratta di un segnale importante per la città che testimonia la volontà del pd di ricostruire una squadra un'offerta politica all'altezza dei cittadini di sulmona e del ruolo che la città merita auguro prosegue l'onorevole sottanelli buon lavoro ai commissari con l'ospicio che si possa avviare un dialogo costruttivo e leale tra il partito democratico ed il movimento abruzzo civico che rappresento a livello regionale con l'obiettivo di far uscire la città dalla logica dei ricatti dei veti politici e dei personalismi per ricostruire un'unità di intenti politica per il bene di sulmonesi per fare questo afferma ancora l'onorevole sottanelli è necessaria una presa di responsabilità da parte di chi agito fin qui con logiche lontane dal bene comune credo che la casa che la classe dirigente locale debba fare oggi uno scatto di orgoglio e rimettersi al lavoro per costruire un programma e un'offerta politica per sulmona aggregando tutte le persone di buona volontà che vogliono lavorare per il bene della città e non per il proprio torna conto in ballo conclude il presidente di abruzzo civico c'è il futuro di sulmona dei suoi giovani e di tutti i suoi cittadini da parte mia c'è il massimo impegno e la disponibilità collaborare per ricostruire un'offerta politica amministrativa all'altezza della città e dei bisogni dei suoi cittadini e lasciamo anche la politica passiamo ad altro la mattina sul cantiere e la sera sui libri di testo grazie ai corsi per adulti attivi nel polo scientifico tecnologico Enrico Fermi tra gli indirizzi di studio per chi si vuole di mettere in gioco e ottenere il diploma ce ne parla nel servizio Andrea D'Aurelio qualificare i giovani adulti per renderli più competitivi e preparati per un mercato del lavoro sempre più esigente consentire agli adulti già inseriti nel mondo del lavoro di migliorare la loro posizione professionale ed economica valorizzare attraverso una fase di recupero tutti coloro che hanno lasciato la scuola e questa la mission dei corsi serali per adulti proposti nel polo scientifico tecnologico Enrico Fermi tra gli indirizzi di studio attivi meccanica e meccatronica costruzioni ambiente e territorio ex geometri sistemi informativi azientali ex ragioneria grazie ai corsi serali per adulti tantissimi giovani che nell'adolescenza hanno interrotto gli studi si sono rimessi in gioco per conseguire il diploma come prima ho avuto molti problemi quindi ho perso l'occasione di continuare la mattina ho trovato questo corso serale quindi è molto utile quindi lo portiamo avanti fino al termine anche un miglioramento a livello di apprendimento sì soprattutto perché è molto più facile capire le cose perché c'è più persone comunque abbastanza mature in classe quindi puoi stare più attento alla lezione a frequentare i corsi anche stranieri con una laurea in tasca lavoratori che escono dai cantiere e dalle fabbriche si buttano a capofitto sui libri di testo noi abbiamo incontrato perfino un vigile del fuoco che prima si prodica per salvare le vite umane e poi comincia a studiare io svolgo la professione di vigile del fuoco presso la caserma di sulmona mi sono rimesso in gioco perché quando ero ragazzo ho smesso gli studi con questa possibilità del corso serale cerco di portare avanti il mio obiettivo quale quello di prendere il diploma sì è veramente è poco tempo che sono ritornata dal venezuela e che mi piace la professione di ragioneria la parte commercialista questa la parte di contabilità l'amministrazione veramente mi piace tanto e mi sono rimessa dato che la scuola da questa opportunità noi cittadini italiani che venivo dall'estero e per me penso che sia diciamo così un'opportunità da non perdere i corsi spiega il docente referente marco paciocco hanno durata triennale e si concludono con il conseguimento del diploma che si ottiene sostenendo un normale esame di stato il diploma dei corsi serali ha lo stesso valore legale dei diplomi conseguiti frequentando i corsi diurni possono iscriversi tutti coloro lavoratori e non lavoratori che abbiano conseguito il diploma di licenza media sono ammessi gli studenti stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno che abbiano frequentato con essito positivo nel proprio paese d'origine un periodo di studi certificabile non inferiore agli otto anni le lezioni si tengono da lunedì al venerdì e prevedono delle meno ore e meno materia rispetto ai corrispondenti corsi diurni ci si può iscrivere fino al 15 ottobre adesso ci occupiamo di cinema e psichiatria questa sera ci sarà l'incontro con sergio rubini in mattinata invece si è svolto il consueto appuntamento riservato agli istituti scolastici cittadini ed è stato proiettato il film disconnect di henry alex rubin i numerosi studenti intervenuti hanno avuto l'opportunità di approfondire il tema affrontato al termine del film grazie all'incontro con gli psicologi alessandra cottone e roberto bonanni in serata ci sarà l'evento centrale dell'intero calendario di cinema e psichiatria come detto interverrà il regista attore sceneggiatore sergio rubini che incontrerà il pubblico presente per commentare il suo ultimo lavoro cinematografico alle 17 30 ci sarà la proiezione del film di sergio rubini dobbiamo parlare e al termine la proiezione l'incontro con il regista attore e sceneggiatore sul mona solidale questo un evento che si svolgerà sabato prossimo a favore della seo si tratta di un gran galà di musica in programma al cinema pacifico lo presentiamo nel nostro servizio una giornata all'insegna della solidarietà per la raccolta fondi a favore della seo l'associazione che da 25 anni è impegnata sul mona nella lotta alle malattie ematologiche ed oncologiche l'appuntamento in programma per sabato prossimo 5 marzo alle 17 30 al cinema pacifico prevede un gran galà di musica con l'addizione di una quarantina di associazioni culturali e del volontariato unite nel progetto di sul mona solidale si tratta del concerto della seo organizzato ogni anno nel periodo di natale che ora cambia data perché diventerà un appuntamento fisso del mese di marzo a presentare l'evento e mimmo taglieri che assunto di recente la conduzione della seo si è voluto mettere insieme la città cioè la solidarietà è un fatto che non possa riguardare solo una associazione ma anche tutte le associazioni del volontariato che per loro condo anche organizzano iniziative per raccolta di fonti e iniziative per far conoscere l'attività dell'associazione e come a seo abbiamo lanciato questo appello a tutte le associazioni che operano in sul mona e nel territorio dicendo di fare rete di stare insieme in questa giornata vi è stata una forte adesione sabato al pacifico si esibirà l'orchestra della scuola popolare di musica di sul mona ospiti d'onore saranno il maestro ghettano di bacco sassofonista di acclarata fama ed il duo composto dal tastierista francesco mammola e dal chitarrista lino giusti ci sarà poi una vera e propria carovana di sorrisi che travolgerà i bambini che interverranno grazie ai clown della cooperativa sul monese fanta cadabra è un momento di di riflessione di valutazione però anche un momento di gioia perché affrontare questi temi non deve essere soltanto un fatto di pessimismo ma guardare tutto con ottimismo ci sarà una banda che la mattina circolerà per le vie cittadine poi questo gruppo e quindi invito le mamme e i papà a portare nel cinema i bambini perché questo gruppo di clown si esibirà e ci saranno molti palloncini a disposizione dei bambini oltre alla musica e al divertimento sono previsti gli interventi del presidente del centro di servizio per il volontariato gino milano e di mimmo taglieri che parlerà anche in qualità di vicepresidente della fondazione carispac sarà inoltre presente il neopresidente dell'assemblea dei soci della fondazione carispac fabrizio politi essenzialmente ci saranno poche parole solo per far capire l'iniziativa e cosa bisogna fare per avere uno stile di vita che non porti alla malattia ma soprattutto musica tanta musica la musica della città di sulmona torna a prato la peligna crea donna l'universo femminile sarà di scena a palazzo colella ce ne parla andrea daurelia postare l'attenzione sulla figura femminile promuovere la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e la riflessione sulle tematiche di genere mostrare l'eccellenza dell'essere donna e dimostrare come la donna non è protagonista solo l'otto marzo ma tutti i giorni questo è il filo conduttore dell'annuale edizione di crea donna 2016 manifestazione organizzata dalla proloco di prato la peligna dei volontari del servizio civile con la collaborazione della horizon service di sulmona della piattaforma delle idee di prato la peligna del rotary club di sulmona quest'anno si è pensato di organizzare una serie di eventi che mettono in risalto la figura della donna a 360 gradi in tutti i suoi settori si regge in una nota diffusa dagli organizzatori perché le donne sono portatrici di idee di scienza di ricette di futuro e pertanto si è l'esigenza di mettere in luce l'eccellenza e il contributo peculiare delle donne in ogni ambito nella giornata di sabato 5 marzo 2016 all'ora 17 presso palazzo colella otto donne mostreranno la loro eccellenza nei settori della moda economia salute volontariato cultura teatro imprenditoria sport e si racconteranno davanti alla madrina di casa imperia liberatore metteranno in luce difficoltà e successi in una sorta di open day tra mondo del lavoro e mondo della cultura a ricevere riconoscimenti saranno maria assunta rossi economia rossella d'angelo salute volontariato i da basile teatro cinzia cinotti moda barbara trafficante marketing fulvia pace sport velia di bacco enologia analisa di ruscio caterina fantauzzi cultura domenica 6 marzo 2016 toccherà la professoressa katia agata spera presentare il suo romanzo riprenditi la vita a coronare la settimana ci sarà crea donna 2016 una manifestazione che si svolge ogni anno in occasione della festa della donna palazzo colella dal 6 al 13 marzo verranno esposti prodotti di pittura decupaggi bigiotteria scultura cucito ricamo disegno e altro ancora l'inaugurazione si terrà domenica 6 marzo nuova iniziativa con i corsi gratuiti di autodifesa femminile appuntamento per sabato prossimo 5 marzo nella palestra fit avenue al manattan village di sulmona l'iniziativa è promossa dalla federazione in collaborazione con il coni e viene organizzata in occasione della festa internazionale della donna le elezioni saranno tenute dal maestro tonio di nino e dureranno dalle 10 a mezzogiorno cercheremo affermato di nino di trasmettere sicurezza ed autostima facendo capire che ogni essere umano è in grado di difendersi da solo le iscrizioni sono aperte e possono partecipare donne di qualsiasi età si ricevono alla fit avenue che ha messo a disposizione gratuitamente la palestra del manattan village per questa nuova iniziativa di corsi gratuiti di autodifesa femminile in programma sabato prossimo 5 marzo adesso è giunto il momento della nostra rubrica buon appetito per conoscere il piatto del giorno avete mai assaggiato un secondo piatto particolare diverso dagli altri la nostra rubrica oggi vi propone le scamorze impanate iniziamo come al solito dagli ingredienti per prepararle per quattro persone occorrono due scamorze abruzzesi 150 grammi di prangrattato due uova pepe in grani timo 200 grammi di insalata mista 8 fette di pane casereccio olio per friggere ora la preparazione della ricetta togliete la buccia alle scamorze poi tagliatele a fette spesse circa un dito sbattete in un piatto le uova insieme con poco pepe macinato al momento in un altro piatto mettete il pangrattato e mescolatelo alle foglioline di un rametto di timo passate le fette di scamorza nelle uova e poi nel pangrattato facendolo aderire bene scaldate a questo punto abbondante olio e friggere il formaggio così preparato poco alla volta scolate le fette con il mestolo forato mettetele su carta assorbente da cucina a perdere l'unto in eccesso e servite subito accompagnando con insalata mista e fette di pane tostato puoi rileggere le ricette della rubrica buon appetito sul sito www.ondatv.tv bene è tutto per questa edizione del nostro telegiornale prossimo appuntamento con l'informazione in diretta questa sera alle ore 20 ci salutiamo con le previsioni del tempo a cura di meteoacquilano.it arrivederci a 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